Grande Fratello VIP 2 Chi sarà il primo eliminato? Durante la seconda puntata del Grande Fratello VIP verrà annunciato il primo eliminato del reality. Per tutta la settimana sono stati al televoto Ignazio Moser, Carla Cruz, Luca Onestini, Gianluca Impastato e Ivana Mrazova. Come ricordiamo, gli inquilini sono stati divisi in due abitazioni. Alcuni, tra cui Carla e Luca, sono capitati nella casa aggiata, mentre altri sono finiti nella stazione di Tristopoli. La suddetta divisione ha influito sicuramente sul televoto, in quanto, stando alle voci del web, i VIP di Tristopoli sembrerebbero aver ottenuto maggiori consensi rispetto agli altri. Di conseguenza, si presume che il primo eliminato del reality possa essere un membro della casa aggiata. In molti scommetterebbero sull'eliminazione di Carla Cruz, ma la sua love story con Jeremias Rodriguez potrebbe clamorosamente salvarla. A quel punto, il secondo indiziato ad abbandonare la casa potrebbe essere il comico Gianluca Impastato.